Musica Noi e la Roberto Giannotti per questa fiera di Vicenza presentiamo una collezione che si chiama La Luce degli Angeli in realtà l'abbiamo presentata qualche mese fa ma come occasione ufficiale cogliamo appunto il nuovo layout della fiera di Vicenza per questa collezione che appunto si chiama La Luce degli Angeli una collezione in oro e diamanti che ci sta dando molte soddisfazioni Oltre a questa collezione che richiama un po' tutte le nostre filosofie quindi tutta la nostra filosofia dell'Angelo Custode diciamo unita ad un design davvero originale presentiamo anche la parte legata un po' più alla nostra produzione tradizionale che è quella dell'argento quindi una parte di Angeli della collezione Angeli in argento delle novità della collezione Chiama Angeli Chiama Angeli è un altro nostro cavallo di battaglia che è una collezione che abbiamo lanciato qualche anno fa ma che comunque rimane uno dei simboli più identificativi del nostro brand Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!